Musica In questa edizione del Lady News Emergenza e immigrazione, la Sicilia ospiterà la sede Frontex Soddisfazione del sindaco Bianco Sul fronte giudiziario intanto sono stati condannati all'ergassolo, scafista e a 10 anni l'accomplice in relazione al naufragio il 12 maggio 2014 Compravendita di voti nelle elezioni del 2012, 5 arresti tra cui i deputati dell'Assemblea regionale siciliana Catania piace ai turisti, lo afferma il sindaco Enzo Bianco Presentando i dati positivi che giungono a diverse società di rilevamento, agenzie e altre fonti Ritorno ai colori della legalità Il progetto giunto alla sua terza edizione ideato all'associazione antiracket Ugo Alfino nel sistema confcommercio Catania Che si propone il divulgare la cultura della legalità come mezzo di riscatto per tutti i giovani Perché lasciarlo a casa? Anche quest'estate dal 6 giugno torna a Catania Il Dog Beach Troverai tutti i comfort ed il divertimento di un Lido senza rinunciare ad averlo accanto Spiaggia dedicata, asilo, dog sitter, parco giochi, addestratori cenofilo con programmi personalizzati giornate di pet therapy, cabine stagionali e tanti eventi da condividere insieme Dog Beach presso Lido Azzurro, via Kennedy 11, Catania Entra da Mondo Ragazzi e troverai tante idee per rendere felice il tuo bambino Mondo Ragazzi è il mondo dei piccoli Abbigliamento e calzature da 0 a 16 anni con i marchi più prestigiosi Da Mondo Ragazzi corsi preparto gratuiti, parcheggio riservato, angolo fasciatoio e stanze dei giochi Mondo Ragazzi, amici d'infanzia A Catania in via Pola 19, ad Agrigento in via Tenea 22, a Sciacca in via Licata 95 e a Giarra in Corsitalia 168 Grazie a tutti Le cooperative sono società che fondano la loro unicità sul principio mutualistico, il quale permette di usufruire di importanti sgravi fiscali e agevolazioni finanziarie. CESICOP è il centro servizi interprovinciali di confe cooperative, a supporto delle cooperative del territorio, fornendo servizi di consulenza contabile, fiscale del lavoro, progettazione fondi europei e accesso al credito. Particolari agevolazioni per il 2015 alle cooperative in a start-up sui servizi offerti. CESICOP sostiene la cooperazione autentica con professionalità. A Catania, in corso Sicilia, 24. Frontex stabilisce una base regionale in Sicilia dove coordinerà l'operazione Triton e lavorerà in stretto contatto con gli uffici di collegamento di Europol, Eurogias e ufficio dell'Unione Europea d'Asilo e Aso, in sostegno delle autorità italiane, e quanto fa sapere l'agenzia dell'Unione Europea Frontex. L'area di operatività di Triton nel Mediterraneo, tra l'altro, sarà estesa a 138 miglia nautica a sud della Sicilia. Nella stagione estiva, a picco degli sbarchi di migranti, saranno dispiegati tre aerei, sei navi d'altura, 12 motovedette e due elicotteri. Una grande vittoria che sposta finalmente l'attività di Frontex, dove serve sia nel Mediterraneo e si tratta di un non passo importante, per dare finalmente una risposta all'emergenza umanitaria che stiamo vivendo nel Mediterraneo e in Sicilia, dice il sindaco di Catania, Enzo Bianco. Da oltre un anno, ha ricordato Bianco, sostengo la necessità che Frontex abbia una sede in Sicilia e, come molti ricorderanno, abbiamo offerto una sede a Catania per ospitarne gli uffici. Nella mia qualità di capo della delegazione italiana al Comitato delle Regioni dell'Unione Europea, avevo ribadito la richiesta di un ufficio operativo di Frontex in Sicilia il 16 aprile scorso a Bruxelles, al direttore generale di immigrazione della Commissione dell'Unione Europea, Mattia Suret. E adesso finalmente sta avvenendo quello che auspicavamo. La Polizia di Frontiere Europea è in procinto di fare un salto di qualità e l'Unione Europea sta lavorando per riempirla di funzioni. Ho chiesto una sede operativa. Mi sono battuto con tutte le mie forze. Ho parlato col Presidente del Parlamento Europeo, ne ho parlato nel Comitato delle Regioni, dove presiedo la delegazione italiana, nei giorni scorsi col direttore generale dell'immigrazione dell'Unione Europea, ne ho parlato col Governo italiano. Oggi, finalmente, sembra che questa scelta diventi operativa. Ci sarà una sede operativa in Sicilia. Se decideranno di farla a Catania, ovviamente noi metteremo a disposizione un locale che abbiamo già individuato nel monastero di Santa Chiara, una parte del monastero di Santa Chiara, quindi nel cuore pulsante della città, perché Frontex abbia qui una sede operativa. Cioè, qui devono essere ascoltati i migranti, devono capire quali sono i problemi veri, non limitarsi a fare delle indagini e delle ricerche e dopo un mese inviarcele. È una grande vittoria anche di Catania, perché la Sicilia comincia a essere considerata anche a livello internazionale. E sul fronte del naufragio arriva un'importante sentenza alla Tribunale di Catania. Infatti, Aya Mouda Raudwan e Amid Bochab sono stati condannati al gruppo di Catania, con il rito abbreviato, rispettivamente all'ergassoli a dieci anni per il naufragio e omicidio. Il 12 maggio 2014, i corpi e i 17 migranti furono recuperati a una quarantina di miglia dalla costa libica, ma un bilancio approssimativo parlò di almeno 200 morti. Il giudice ha accolto le richieste della Procura. La Procura, in una nota, sottolinea che si tratta di una sentenza di grande importanza che premia la determinazione dell'ufficio del PM nel punire coloro che mettono deliberatamente in pericolo la vita dei migranti e che essa giunge da appena un anno dei fatti, dopo indagini complesse sul piano tecnico e della qualificazione giuridica dei fatti. La Procura ricorda, infine, come col fermo degli imputati si affermò per la prima volta la sussistenza della giurisdizione italiana anche per i fatti di naufragio e di omicidio commesso in alto mare, in acqua internazionali. Terremoto all'Assemblea regionale siciliana. All'alba di oggi, i finanziari e il nucleo speciale di polizia valutaria di Palermo hanno arrestato due deputati regionali, un ex parlamentare all'Assemblea regionale siciliana e altre due persone, tra cui un finanziere. I cinque sono tutti agli arresti domiciliari. Gli arrestati sono accusati a vario titolo di aver promesso ricevuto denaro o altre utilità in cambio di voti, per sé o per altri, nell'ambito delle elezioni del 2012 per il nuovo Consiglio Comunale di Palermo e dell'Assemblea regionale siciliana, come spiegano gli inquirenti. Ai domiciliari sono andati i deputati di Nodina dell'Udc, Presidente della Commissione Bilancio all'Assemblea regionale siciliana, e Roberto Clemente di PID Cantiere Popolare, nonché l'ex deputato Franco Mineo, già sotto processo per intestazione fittizia di beni. E ancora Giuseppe Bevilacqua, di PID Cantiere Popolare, primo dei non eletti al Consiglio Comunale di Palermo, e tra gli indagati c'è anche un finanziere accusato di corruzione. L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Vittorio Teresi, dai PM Anna Maria Picozzi, Amelia Luise e Francesco Del Bene. Secondo le accuse politici finite ai domiciliari per voto di scambio, in cambio di voti avrebbero promesso posti di lavoro e denaro. L'inchiesta è nata da un'inchiesta antimafia. Già nell'ottobre del 2013, uno degli arrestati, Giuseppe Bevilacqua, dipendente Amat di Palermo, era stato iscritto nel registro degli indagati per malversazione, appropriazione in debita e usura. Secondo la procura di Palermo, che coordina l'inchiesta del nucleo di polizia valutaria e la Guardia di Finanza, Bevilacqua, primo dei non eletti al Consiglio Comunale di Palermo, avrebbe usato per la campagna elettorale dei generi alimentari del Banco Opere di Carità, destinati agli indigenti. Il finanziere arrestato per corruzione, accusato di avere fatto dei favori proprio allo stesso Bevilacqua. L'operazione della Guardia di Finanza, come ha detto il procuratore aggiunto di Palermo, Vittorio Teresi, è uno spaccato plastico dell'esistenza di un rapporto di una certa politica, per fortuna in minoranza ma diffusa, che continua a cercare e a volere l'appoggio di Cosa Nostra per avere consensi elettorali. Questi sono i rapporti tra la mafia e le istituzioni, dice ancora Teresi. Questi politici cercano mafiosi come Natale Gambino, Calogero Di Stefano, già condannati per mafia, che non sono una faccia diversa da quegli stessi mafiosi che mettono il tritolo o usano la pistola. Quindi chi si assume la responsabilità di cercare un mafioso sottoscrive un patto con gli assassini, dice il magistrato, è l'essenza di Cosa Nostra, un mondo criminale che non distingue tra l'ala militare e l'ala politica, è tutto un'unica ala, è uno spaccato significativo. Uno degli arrestati, Giuseppe Bevilacqua, prima cerca un appoggio personale perché nel 2012 si era candidato alle comunali di Palermo. Nelle indagini emerge che lui aveva già ottenuto appoggio mafioso nel 2007 e poi l'ha fatto nel 2012. ha ottenuto oltre mille voti, non ne mordi alle regionali appoggio Roberto Clemente a cui dà il pacchetto mafioso, il patto che Clemente si sarebbe dimesso in caso di vittoria alle regionali. Cosa mai avvenuta perché Clemente è rimasto in carica sia all'Ars che al Comune? L'onorevole di Nodina, fanno sapere intanto dall'Udc, si è autosospeso il 24 settembre dell'anno scorso quando fatti diffusi dalla stampa riferivano di un suo coinvolgimento in un'altra inchiesta, come dice Giovanni Pistorio. Alla luce dell'inchiesta odierna della Procura di Palermo, spiega il segretario dell'Udc, quella decisione in combinato con il codice di autoregolamentazione del partito è confermata, quindi l'onorevole Dina non fa parte dell'Udc. Nell'erribadire pieno sostegno e fiducia dell'azione dei magistrati auspichiamo che Dina possa fare chiarezza e possa dimostrare la sua totale esternità e i fatti contestati. Intanto decine di atti e documenti sono stati sequestrati alla Guardia di Finanza e alla Polizia Valutaria di Palermo nell'ufficio del Presidente della Commissione Bilancio all'Ars, Nino Dina. Dina, che era con il suo legale, accompagnato i finanzieri nei suoi uffici di Palazzo Lele Normanni, non si conoscono ancora i contenuti degli atti sequestrati alle fiamme gialle. La Polizia di Stato ha tratto in arresto Lavagna Innocenzo, classe 1961, inteso Enzo Pinocchio, pregiudicato, latitante, destinatario di ordine di carcerazione emesso il 15 aprile 2014 dalla Procura Generale di Catania, a seguito della pronuncia della Corte Suprema di Cassazione, che rendeva definitiva una sentenza di condanna emessa il 31 ottobre 2012 della Corte d'Appello Etnea, dovendo espiare la pena di sette anni di reclusione per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Su delega della Procura Generale di Catania sono state avviate già dall'aprile dello scorso anno le indagini finalizzate alla cattura della titante, condotte sotto il coordinamento del Servizio Centrale Operativo da personale della Squadra Mobile, sezione Criminalità Organizzata, Squadra Catturandi. Nella serata di ieri, gli uomini della Catturandi, con il prezioso contributo di specialisti del Servizio Polizia Scientifica, appositamente inviati da Roma per la cattura di Lavagna, sono riusciti a scovare il latitante che aveva trovato rifugio nel rione cittadino Civita, nel retro di una bottega adibita a sala da parrucchiere. Lavagna è un noto esponente storico del clan Sciuto Tigna ed annovera numerosi pregiudizi penali, in specie per reati contro il patrimonio, prevalentemente estorsioni e rapine. Già nel 95 veniva sottoposto affermo di Polizia Giudiziaria per associazione per delinquere di stampo mafioso e tentato omicidio aggravato, essendo emerso che il predetto, in concorso con altri malavitosi, stava pianificando l'omicidio di familiari di un collaboratore di giustizia. Il 2 novembre 2001, Lavagna è stato tratto in arresto dal personale della squadra mobile, nell'ambito dell'operazione Game Over, in esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catania nei confronti di numerosi esponenti della citata Cosca, ritenuti responsabili per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsioni e rapine. Per tali fatti, Lavagna il 20 novembre 2003 è stato condannato dalla Corte d'Appello di Catania alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione. Il 26 giugno 2004, la squadra mobile, nell'ambito della cosiddetta operazione Gold King, ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 43 esponenti della Cosca Sciuto-Tigna, tra cui appunto Lavagna, all'epoca detenuto, ritenuti responsabili di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti, usure, riciclaggio e altri reati. La predetta misura cautelare rappresenta una pietra miliare dell'attività di contrasto condotta dalla Polizia di Stato alla consorteria mafiosa Sciuto-Tigna, storica e agguerrita con pagine del variegato panorama criminale catanese capeggiata dal noto boss detenuto Sciuto-Biaggio. Espletate le formalità di rito, Lavagna è stato associato presso la casa circondariale di Catania-Bicocca. La Guardia di Finanza di Siracusa, a conclusione di un'attività di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica Aretusea, orientata alla repressione dei reati tributari, ha eseguito il decreto di sequestro preventivo disposto dal Tribunale Aretuseo nei confronti di due imprenditori megaresi della somma complessiva di 3.390.550 euro. Le indagini sono state condotte dalla compagnia di Augusta e sono state finalizzate a riscontro delle evidenti discrezie tra quanto denunciato dagli indagati nelle dichiarazioni dei redditi del triennio 2009-2011 e quanto successivamente versato all'erario. I finanzieri hanno appurato attraverso un'analisi dei bilanci societari e i relativi riscontri delle scritture contabili obbligatorie che i due soggetti sistematicamente e interponendosi fittiziamente tra loro nella rappresentanza legale della società hanno omesso di versare all'erario l'IVA dovuta. In tal proposito le disposizioni di legge stabiliscono che commette reato chiunque non versi l'imposta sul valore aggiunto dovuto sulla base della dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo ed è sanzionato con la reclusione da sei mesi a due anni. Il reato si configura se il totale relativo all'IVA dovuta e non versata supera i 50.000 euro per periodo d'imposta. La capacità operativa e la proficua attività di intelligence posta in essere dalle fiamme gialle anche con l'ausilio delle banche dati in uso al corpo ha consentito di cautelare beni di proprietà dei responsabili del valore complessivo di circa 2,6 milioni di euro così distinti 23 immobili e 85 terreni siti nella provincia per un valore di 2,4 milioni circa e 200 milioni di euro tra disponibilità liquide e quote sociali. L'attività della Guardia di Finanza si pone a tutela della sana imprenditoria al fine di prevenire e reprimere ogni condotta illecita che possa danneggiare il sistema economico e l'affermazione del principio di equità fiscale. I vari fenomeni di microcriminalità che hanno di recente interessato il territorio di Paternò sono stati al centro di un incontro in prefettura. Alla riunione presieduta dal prefetto Maria Guia Federico oltre ai vertici provinciali delle forze dell'ordine ha partecipato il sindaco Mauro Mangono accompagnato dal comandante della Polizia Municipale. L'analisi della situazione di Paternò ha evidenziato che il numero dei reati consumati in quel territorio è nel complesso diminuito ma sono state attuate nuove modalità quali lo sfondamento e le vetrine dei negozi anche in ore diurne che hanno creato una forte apprezzione e un senso di insicurezza sia tra i commercianti che nella cittadinanza in genere. La presenza delle forze dell'ordine nel comune di Paternò è significativa con 60 carabinieri 25 militari alla Guardia di Finanza e 32 vigili urbani. Inoltre nelle attività di controllo del territorio concorre anche la Polizia di Stato con il piano Trinacria. Nel corso dell'approfondimento è apparso evidente che il superamento delle attuali criticità non può essere affidato ad un mero aumento delle unità in servizio ma piuttosto ad una maggiore sinergia che consente lo svolgimento di mirate attività istituzionali a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica alle forze di polizia e di altre attività non strettamente rientranti in tale ambito alle altre forze in campo. In proposito è stato espresso a tutti i presenti l'avviso partecipata costituisca un malido strumento di governo del territorio proprio delle autorità che deve integrarsi con la funzione di controllo del territorio proprio e le forze di polizia. In questo contesto anche i cittadini nelle categorie interessate devono fare la loro parte utilizzando moderni sistemi di difesa passiva e fornendo dove è necessario una leale collaborazione alle forze dell'ordine. In conclusione il prefetto ha assicurato che comunque verranno disposti controlli straordinari in quel territorio che saranno rivolti al contrasto di qualsiasi forma di illegalità tanto nella considerazione che la moderna accezione in sicurezza non consiste più nella sola attività di prevenzione e repressione di polizia ma investe alla qualità della vita e la garantisce anche attraverso il miglioramento dei servizi sociali l'esecuzione di programmi di risanamento del degrado urbano gli interventi educazione e promozione sociale i piani di contenimento e le aree di emarginazione. Uno secco alla logica del sussidio la richiesta di un piano regionale pluriennale contro la povertà la ristrutturazione del welfare regionale locale e misure di politica attiva centrate sui servizi alla persona sono queste le richieste avanzate alle scriterie regionali di CGL Cisle e Will nel giorno della conferenza di presentazione del DDL di iniziativa popolare contro la povertà assoluta proposto da un ampio cartello di soggetti fra cui i sindacati con questo provvedimento dicono i sindacalisti si vuole dare risposte in termini di welfare e di sostegno alle famiglie in difficoltà e fare valere la dignità delle persone abbandonando la logica del sussidio in una regione che conta secondo i dati fornite ai sindacati 250.000 famiglie in povertà assoluta in cui una famiglia su due versi è uno stato di deprivazione le confederazioni attendono al governo regionale precisi impegni scanditi da tempi e modalità fissati in un piano pluriennale e una politica di servizi per l'inclusione sociale contro la povertà assoluta dicono gli esponenti sindacali serve una manovra che assieme a misure per far fronte all'emergenza prevede interventi su più fronti un'iniziativa che riteriamo fondamentale dicono la CGL Cisle Will ma che da sola è insufficiente per superare l'estrema condizione di disagio che in questi anni di crisi ha colpito drammaticamente famiglie e bambini secondo gli ultimi dati di Stato infatti in Sicilia nel 2013 229.000 minori vivono in condizioni di povertà assoluta più 5,9% rispetto all'anno precedente un dato che colloca l'isola al secondo posto tra le regioni italiane per povertà minorile sono decisamente positivi i dati turistici riguardanti la città di Catania dati che con orgoglio vengono esposti al sindaco Enzo Bianco che prima nella conferenza stampa ha voluto fare un giro sui tetti alla chiesa San Nicolò l'Arena un percorso di gronda che permette di ammirare l'intera città dall'alto proprio il sindaco ha annunciato che nella prossima giunta avrà emanato un atto che renderà ordinaria la visita del percorso di gronda tornando ai dati denominati Catania più evidenziano come la nostra città è prima per sentimento positivo generale con un travel appeal index dell'81,28% il travel appeal index è l'indice che misura le prestazioni di accoglienze di 10 città italiane secondo Howard Htl Catania nel 2014 ha superato per la prima volta la soia di 1.500.000 presenze alberghiere con una notevole crescita turistica un più 7,8% di turisti italiani e un più 11,7% come incremento di turisti stranieri l'aeroporto di Catania poi nel 2014 ha superato i 7.500.000 di passeggeri con il più alto incremento tra gli scali italiani con un più 14,2% e la maggior crescita dei voli stranieri con un più 32% secondo l'autorità portuale a Catania poi nell'anno in corso nel prossimo giungeranno numerose navi da crociera esattamente 70 approdi nel 2015 per 250.000 croceristi e 100 approdi nel 2016 per 400.000 croceristi Nelle dicembre del 2014 Catania secondo i rilevamenti di Sky Scanner un'applicazione che valuta i migliori prezzi per quanto riguarda le offerte aeree è risultata settima nel mondo con un più 59% l'incremento più alto dopo l'Havana che ha registrato un non più 84% Nell'aprile 2015 Catania secondo i rilevamenti di momondo.it è risultata al primo posto tra le mete preferite dagli italiani al terzo posto tra le mete preferite dagli svizzeri Catania poi è segnalata per i suoi monumenti per l'enogastronomia e il mare ed è al settimo posto della top 10 delle mete italiane low cost con un prezzo medio giornaliero di 95 euro a persona secondo la classifica stilata all'osservatorio del turismo digitale di pronto hotel Significativi anche i dati sui visitatori di mostre e musei una media annuale di 20.000 visitatori fino al 2013 per il Castello Ursino la mostra artisti di Sicilia ha registrato 22.000 presenze 30.000 nelle prime sette settimane quella di Picasso 52.000 il totale dei visitatori al maggio 2015 e 20.000 per le notti al museo 2015 secondo quanto emerge l'analisi delle aziende specializzate a rendere attrattiva Catania sono il calore dei cittadini sempre accoglienti la vivacità anche della vita notturna il clima mite da marzo a novembre il mare dalla playa alla scogliera l'avica e i costi contenuti per una vacanza media ma ci sono altri punti di forza come l'Etna il barocco le originali iniziative culturali e Sant'Agata il pittoresco dei mercati e della quotidianità la cucina il cibo da strada il vino e i dolci questa è una città meravigliosa con mille problemi con mille difetti con mille cose da superare ma veramente è una città fantastica e vista dall'alto fa vedere a chiunque le sue bellezze Catania è una città in movimento una città che ha saputo guadagnare in questi anni di durissimo lavoro finalmente una reputazione seria a livello anche internazionale tutte le più importanti agenzie specializzate al mondo dalla Orvet a quelle italiane segnalano una città considerata accogliente una città in cui cresce il volume di turisti che arrivano da noi con le navi crescono i turisti che arrivano con gli aerei e soprattutto si è fatta la reputazione di una città calda accogliente sicura non sono cresciuti il numero dei reati predatori contro i turisti è una città in cui ci sono attività culturali ma c'è soprattutto la grande forza che è il calore dei catanesi questa straordinaria capacità di fare diventare bella e viva una città che lo è Catania cresce la Sicilia decresce perché rischia di perdere patrimoni dell'UNESCO proprio perché non si investono i soldi c'è proprio richiamo da parte dell'UNESCO l'Etna soprattutto io penso che questo rischio non ci sia però lo sprono è ugualmente a tenere molto meglio questa ricchezza straordinaria guardate Catania deve una parte del suo successo oggi all'Etna l'Etna è uno dei luoghi al mondo non solo vulcano ma anche un concentrato di biodiversità dal punto di vista della flora e della fauna ma anche della cucina e anche del vino straordinario sarebbe un peccato fare dei passi indietro io mi adopererò con tutti i sindaci del comprensorio dei comuni dell'Etna e di tutti i siti dell'UNESCO abbiamo deciso di fare squadra fondando il CUNES per difendere questo straordinario patrimonio per risvegliare la regione per convincere ad essere più attenta e per risvegliare anche le autorità nazionali questo è un patrimonio che deve diventare assolutamente unico e salvaguardato giunto alla terza edizione si è svolto questa mattina al centro culturale ZOI colori della legalità il progetto ideato dall'associazione antiragget Ugo Alfino che ha uno scopo fondamentale insegnare ai ragazzi cos'è la legalità cos'è il rispetto delle regole e della legge l'associazione Ugo Alfino è un'associazione appunto della Confo Commercio che da anni si batte affinché chi è oppresso da racket dall'usura possa ribellarsi possa capire che ci sono le forze e l'ordine e tante altre istituzioni che possono aiutare in un momento di difficoltà queste difficoltà si presentano soprattutto ai giovani gli uomini del domani che possono capire il valore della legalità che possono capire soprattutto quella che è la visione di un futuro più giusto più corretto in cui non bisogna essere omertosi ma in cui bisogna reagire e reagire con forza ma soprattutto con una grande cultura il problema non è imporre ai ragazzi quello che si debba fare ma far capire loro in un futuro che chiaramente lasciamo a loro che il prospetto di andare a trovare una società migliore priva di angherie e priva di ogni forma di violenza chiaramente è sempre migliore una società diversa quella che dobbiamo lasciare lei ha detto giustamente a chi ci seguirà quale è l'insegnamento più importante e cosa chiedono soprattutto i giovani l'insegnamento più importante è quello che chiaramente i giovani non devono subire nessuna angheria special modo quelli che percorrono dei percorsi quelli che fanno dei percorsi che chiaramente sono privi di ogni forma di violenza qualsiasi forma che si potrebbe domani individuare in una nuova forma di origine mafiosa i ragazzi sono curiosi reagiscono molto bene alle problematiche e devo dire che questo mi rende particolarmente felice certo a volte sono anche un tantino sprovveduti perché oggi entrando nel contesto dell'era diciamo dei computer dei tablet non sono più portati ad andare a un confronto diretto e magari una volta se si doveva chiedere qualcosa della serie che cos'era un evento sociale lo si faceva tramite il padre e la madre adesso si smanetta un tantino in un computer in un tablet e hanno già la risposta e da qua nasce già il diaframma di quello che può essere il rapporto che c'è nella famiglia all'interno del giovane però la saturazione porta anche a fenomeni per esempio del bulismo che non è trascurabile cioè dopo lo strumento se chiaramente usato in termini di eccesso può diventare anche illegale a Autore dei sovrapposti